Si chiude con 2.500 cooperative aderenti, oltre 365.000 prestazioni erogate a 225.000 lavoratori e loro familiari, il bilancio del primo crienno di attività di cooperazione salute, il progetto mutualistico nazionale promosso da Conf Cooperative, finalizzato a garantire a soci, lavoratori e i loro familiari l'accesso a prestazioni sanitarie e offerte di sanità e di welfare sempre più precluse dai redditi e dall'inadeguatezza del sistema pubblico. In questi tre anni sono stati erogati rimborsi per 22 milioni di euro, di cui 8 milioni tra mutua nazionale e territoriali, a cui si aggiungono altri 14 milioni di euro rimborsati per conto delle mutue, fondi e casse in regime di mutualità mediata.